ciao a tutti da milo di mirante case oggi ci troviamo a bastiglia per presentarvi l'ultimo degli immobili nostra esclusiva siamo in un grazioso borgo di recente costruzione vi presentiamo un immobile con ingresso indipendente disposto su due livelli soggiorno cucina abitabile con terrazzino due camere un servizio e una splendida mansarda al piano superiore completa la proprietà un garage di 35 metri quadri venite che lo faccio vedere la richiesta economica per questo immobile è di 188 mila euro se volete qualche informazione in più potete guardare il nostro sito www.mirantecase.it oppure chiamarvi sul 338 285 2222 ciao da milo di mirante case